Le chiedo una cosa, De Luca addirittura oggi ha detto che il governo ha chiuso perché ha ceduto ai sciacalli, che cosa pensa di questa... Prima chiedeva la zona rossa, poi adesso dice che ha ceduto ai sciacalli e invita il governo ad andare a casa tra l'altro. E lei sulla stessa linea di De Luca, anche lei dice che il governo va a casa, è interessante. No, attenzione, non mettetemi sulla stessa linea di un signore che ha la responsabilità di alcuni milioni di persone, bimbi, anziani, donne, uomini, perché quando va a fare il fenomeno in televisione, su Facebook, ha passato l'estate a insultarmi, caprone, venditore di cocco, a parte il fatto che non capisco cosa abbia contro i venditori di cocco, a insultarmi e a insultare tutta Italia, perché lui era un genio e lui avrebbe risolto i problemi non solo del mondo, ma soprattutto della campagna. Io ero andato a Salerno a vedere il cosiddetto padiglione Covid, per cui i campani avevano speso un sacco di soldi, chiuso, e io dissi andate a trovarlo, era quest'estate, ma se dovesse servire Dio non voglia, perché tornerà una seconda ondata, come funziona qua, visto che l'ospedale è chiuso e giù un'altra sequela di insulti. A me interessa risolvere i problemi, De Luca è un piccolo uomo, non ho voglia di litigare con lui e mi spiace per i napoletani, per i campani, perché l'immagine di quella morte in un bagno, in un ospedale grande, grandioso, con medici eccezionali come il Cardarelli, ahimè ha fatto il giro del mondo. Quindi risolvere i problemi significa insistere per curare a casa chi può essere curato a casa. Questo sì contesto al governo, perché da mesi insiste nel non procedere.